Un blocco generale e siero anti-covid per tutta la popolazione a partire da febbraio. Misure drastiche, quelle stabilite dal governo austriaco per contrastare il picco di contagi. Il lockdown al momento è previsto fino al 12 dicembre, solo le scuole rimangono aperte e in parte il commercio al dettaglio. Un giro di vite contrastato da molti cittadini che hanno manifestato a Vienna a due passi dalla sede della cancelleria. In piazza c'era anche un gruppo di persone partite da Fano che con cartelli, bandiere tricolori e striscioni hanno ribadito il no alla divisione della società e alla dittatura. Abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio non per fare la scampagnata del fine settimana ma per portare ai popoli europei in lotta un messaggio di unione, di fratellanza vera perché quello che stiamo vivendo è il tentativo di instaurare una dittatura globale e noi vogliamo portare il nostro messaggio di solidarietà a tutti i popoli europei che sono in lotta in questo momento. Insieme a voi chi c'era in piazza? In piazza c'era sostanzialmente tutto il popolo austrico perché l'Austria è uno dei paesi con il più basso tasso di vaccinazione d'Europa quindi c'era una fortissima opposizione molto importante e l'adesione delle forze dell'ordine, di buona parte le forze dell'ordine alla manifestazione erano proprio all'interno della manifestazione e sanitari schierati addirittura in camice bianco quindi con la divisa da lavoro quindi una cosa abbastanza molto molto trasversale. Abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria, meravigliosa. Come abbiamo spiegato i bandieri italiani sono venuti tutti intorno a noi perché probabilmente hanno ben ferma e impressa nella memoria le scene di Trieste piuttosto che quelle di Roma sanno che noi soffriamo come loro e combattiamo la stessa battaglia. Una lotta alle restrizioni che prosegue anche in Italia. Davide Di Tommaso, portavoce di Noi Siamo il Popolo Italiano e membro del coordinamento Marche Provincia Unite, contesta duramente la nuova stretta del governo Draghi. Era abbastanza prevedibile perché quello che è stato in Austria qualche giorno fa si verifica in Italia, tutto come da copione. Continueremo con la resistenza, Wiesestand dicono gli austriaci, continueremo noi qua in Italia come fanno loro esattamente allo stesso modo. E sulle ulteriori limitazioni che cosa ne pensa? Ma questo fenomeno super grip pass non è altro che un obbligo sul rettizio per arrivare comunque per imporre la vaccinazione, l'inesima estorsione e quindi io penso, sono fortemente convinto che alle estorsioni non si cede mai.